Un giorno importante, il più importante di una vita, da festeggiare con un'entrata eclatante in stile hollywoodiano. Ma mai la giovane coppia di sposi che ha deciso di arrivare all'altare direttamente in elicottero avrebbe potuto immaginare che quell'ingresso, in grande stile e dal sapore vagamente kitsch, avrebbe sollevato un simile polverone di polemiche. Sì, perché quell'atterraggio in largo Roberto il Guiscardo, all'ombra delle possenti mura del Castello dei Ruffo, tra due ali festanti di invitati, si sarebbe svolto senza alcuna autorizzazione e senza che le autorità locali ne fossero adeguatamente informate. Troppe le ombre sulle quali, dopo che l'episodio ha avuto grande risonanza sui siti web e social network, la procura di Vibo Valencia ha deciso di fare piena luce per capire quale meccanismo si è potuto saltare per consentire ad un velivolo di compiere una manovra che, per quanto riuscita, è apparsa quantomeno azzardata. Tanto più che per effettuare la stessa si è reso necessario persino il blocco del traffico, con la strada rimasta chiusa per alcune ore. A chiuderla non sarebbe stato però il comune, visto che Franco Pagano, sindaco della cittadina tirrenica, si è addirittura dissociato dall'episodio, riferendo che l'atterraggio era stato autorizzato solo nello stadio cittadino e non certo in pieno centro storico. Per questo i carabinieri stanno adesso vagliando le posizioni dei soggetti coinvolti, dalle autorità locali al pilota del velivolo che ha accompagnato lo sposo, un operaio con precedenti penali, e la sua consorte quasi fin sull'altare. Dani Cotera per l'AC News 24.